Anche quest'anno, in occasione della The Venice Glass Week, che è la più importante manifestazione internazionale dedicata al mondo del vetro artistico, noi del Consorzio Promuovetro abbiamo deciso di promuovere un'iniziativa speciale per raccontare il lavoro incredibile che le fornacce di Murano fanno da più di sette secoli. GlassBateo, lo vedete alle mie spalle, è un progetto davvero unico nel suo genere. Abbiamo trasformato un vaporetto, il bateo come lo chiamiamo noi veneziani, in un'installazione galleggiante che ospiterà una mostra in diversi eventi dedicati al vetro di Murano. Il GlassBateo, che abbiamo realizzato con la direzione artistica dell'architetto Matteo Silverio, navigherà per tutta la durata della Glass Week sul Canal Grande e lo si potrà visitare tutti i giorni quando sarà ormeggiato in erbaria Rialto. Chi lo visiterà rimarrà sicuramente colpito dagli interni sorprendenti e dall'esposizione di circa 50 opere dei nostri maestri vetrai, che sono tutti concessionari del marchio di garanzia e tutela della regione del Veneto, vetro artistico di Murano. Per chi non riuscisse a venire a vederlo, dal 14 al 22 settembre c'è anche un'altra occasione, perché sarà ormeggiato ed aperto alle visite a inizio ottobre all'arsenale di Venezia durante il Salone dell'Alto Attigianato.